Il Padre Nostro Il Padre Nostro Il Padre Nostro Abbiamo visto in queste puntate che questa preghiera è una preghiera che Gesù ha dato ai Suoi discepoli non come formula magica, cioè lo dici cento volte e via, sei perdonato. No, è dato a noi come un modello anche per le nostre preghiere. Perché Gesù aveva appena detto che la preghiera a Dio non doveva essere fatta con le preghiere memorizzate, ripetute, come dice Gesù, come fanno i pagani, ma doveva essere una preghiera spontanea, sentita, però bisogna seguire certe regole della preghiera quando ci avviciniamo a Dio. Troviamo già due volte nei Vangeli questa preghiera che troviamo qui in Matteo 6, lo troviamo anche in Luca 11, però anche in Luca 11 è leggermente diversa, più breve di quello che abbiamo qui in Matteo 6. E da una parte in Luca i discepoli avevano detto a Gesù insegnaci a pregare, poi lui ha risposto così, invece qui a Matteo lui semplicemente in mezzo ad un discorso alla folla va a parlare di questo discorso della preghiera. E' una preghiera che deve essere guidata dallo Spirito di Dio in noi, quando preghiamo chiediamo che lui ci guida, poi dice la parola di Dio che quando noi preghiamo, lo Spirito Santo interpreta le nostre parole per presentarle al Padre in modo degno, perché, dire la verità, certe volte chiediamo delle sciocchezze a Dio in preghiera, che farebbero ridere i polli se ci fossero i polli in cielo, invece lo Spirito Santo prende le nostre parole e le interprete per il Signore del Moro Giusto. In questa preghiera, abbiamo visto la forma di questa preghiera, ci sono delle richieste verticali, cioè sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, la tua volontà sia fatta in terra come è fatta il cielo, verticali. E poi ci sono le richieste orizzontali, come nei dieci comandamenti, la prima parte verso Dio, la seconda parte verso i nostri simili, e qui, quindi, le richieste orizzontali, dove dice, dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimettici i nostri debiti, non ci esporre la tentazione, liberici dal maligno, sono richieste che noi chiediamo al Signore, pensando alla nostra vita terrena, alla vita quotidiana nostra. E quindi, ripassiamo queste frasi, Padre nostro, che sei nei cieli. Interessante che questa frase, Padre nostro, non viene usata nel Vecchio Testamento, è un concetto nuovo, un concetto nuovo perché Gesù poi parla della nuova nascita. Quando noi crediamo in Gesù, Dio diventa veramente il nostro padre. per mezzo della nuova nascita, padre nostro, che sei nei cieli. Il Vecchio Patto, Dio era padre di Israele, ma non era molto spesso visto come padre individuale dei credenti. E quindi, quando noi crediamo in Gesù, noi siamo adottati nella famiglia di Dio e abbiamo poi il diritto di chiamarci figli di Dio. Infatti, in Giovanni 1, è un brano bellissimo dove Gesù viene spiegato da Giovanni, l'Apostolo, dicendo che Gesù era venuto in casa sua e i suoi non l'hanno accettato. Però, a chiunque lo accetta, a chiunque crede in lui, a loro è dato, dice, il diritto di chiamarsi figli di Dio. Quindi, questo concetto che siamo figli di Dio per fede in Cristo Gesù, non perché apparteniamo ad una religione, non perché siamo nati nella famiglia umana, perché certe volte siamo tutti figli di Dio. No, siamo creature di Dio. Diventiamo figli di Dio nel momento in cui crediamo in Cristo Gesù. Questo è un concetto nuovo, nuovo, che Gesù poi riporta anche in questa preghiera. Padre nostro, certo, solo chi è figlio ha diritto, di chiamare Dio Padre. Molti non credenti recitano inutilmente questa preghiera. Ma quando conosciamo Gesù come Signore Salvatore, quando crediamo in Lui, capiamo che Lui è morto per noi, al nostro posto, questo ci dà il diritto di chiamare Dio nostro Padre. Quindi possiamo, con verità, dire Padre nostro. Che sei nei cieli, perché sappiamo che qui su questa terra abbiamo avuto anche un Padre umano. Qualche volta non è un rapporto molto bello col Padre umano, ma invece con il Padre Celeste sì. Perché Lui ci ha amato così tanto, con un uore che si sacrifica, che ha mandato suo figlio Gesù a morire al nostro posto sulla croce. Quindi è un Padre che non fa altro che dimostrare l'amore verso di noi. Anche nella disciplina, anche quando ci deve correggere, dimostra sempre tanto amore per noi, il nostro Padre in cielo. Venga il tuo regno, dice questa preghiera. Noi viviamo oggi sotto il regno del maligno, di Satana. Infatti l'uomo che continua a rovinare la terra, perché lo fa? Perché è sotto la guida, l'impulso del maligno, il principe di questo mondo, Satana. Però un giorno verrà il regno di Dio fisicamente su questa terra e così la volontà di Dio sarà fatta alla perfezione anche qui, come oggi è fatto in cielo. Questo è il senso di questa preghiera. Sia fatta la tua volontà anche in terra, come è fatta in cielo. E questo troviamo anche nella preghiera dei primi credenti, che troviamo anche in 1 Corinti 6,22, con la parola greca Marnatà. Marnatà. Che vuol dire vieni Gesù. È una preghiera che dice, signore, non ce la faccio più. Ho bisogno di te, ma ho bisogno di vedere la tua venuta, che tu vieni a mettere a posto le cose. Certe volte affrontiamo situazioni difficili, ingiustizie, e noi non possiamo farci nulla. Possiamo solo dire, signore, io aspetto il tuo ritorno, quando tu metterai a posto tutto. Marnatà, vieni Gesù. Quindi in questa preghiera venga il tuo regno. Stiamo chiedendo al signore di tornare e di mettere a posto su questo mondo tutte le cose, le ingiustizie che non vanno bene. Poi la richiesta per il pane, dacci oggi il nostro pane quotidiano. Questo è importantissimo, abbiamo visto. Dice oggi. Stiamo pensando non del futuro lontano, non come faremo tra vent'anni. stiamo pensando del nostro bisogno oggi, in questo momento che abbiamo bisogno. Dacci oggi. Dacci il pane oggi. Poi abbiamo visto che veramente nella lingua greca la domanda, la preghiera dice io veramente oggi c'ho sul tavolo ma mi preoccupo perché domani, dopo devo mangiare, non c'ho nulla, non c'ho nulla. Dacci oggi quello che ci serve. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Poi noi abbiamo in questa preghiera il diritto di chiedere al signore le nostre cose. Sappiamo che Dio già sa tutto. Lui sa tutto di quello di cui abbiamo bisogno, però a Lui fa piacere che ci bastiamo davanti a Lui, ci inginocchiamo davanti a Lui e chiediamo il suo aiuto. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Tu sai signore, quello di cui ho bisogno non vuol dire chiedere il lusso, vuol dire chiedere il necessario. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Certe volte chiediamo delle cose ridicoliche al signore e infatti Giacomo dice, il fratellastro di Gesù, nella sua lettera, dice, voi non avete perché non chiedete o chiedete secondo i vostri desideri. E se noi chiediamo, chiediamo e Dio non ci dà quello che abbiamo chiesto, dobbiamo valutare. Forse non stiamo chiedendo la cosa secondo la sua volontà. Poi ci sono persone che dicono ma io ho chiesto da Dio e mi ha dato questa cosa, magari sta vivendo in adulterio, in disubinanza a Dio. No, Dio non ti ha dato quella cosa. No, tu l'hai preso, ma Dio non risponderà con una cosa che è contraria alla sua volontà. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Mi fa pensare anche del popolo di Israele quando dopo che erano usciti dall'Egitto per 40 anni che hanno vagato nel deserto, non c'erano supermercati, no, Dio ogni giorno provvedeva quel pane quotidiano, la manna che serviva e dovevano raccogliere poi solo per quel giorno. Se loro invece dice, ma raccogliamo un po' più oggi così domani non dobbiamo alzarci. No, andava male, andava male. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Penso anche a questo fatto che anche Dio al suo popolo nel deserto provvedeva giorno per giorno quello di cui loro avevano bisogno. E Gesù dice, noi se abbiamo cibo e abbiamo da vestirci dobbiamo essere contenti. non dobbiamo mirare al lusso, alle cose che poi vengono sprecate. No, dacci oggi il nostro pane quotidiano. Quindi Dio promette di provvedere le necessità del suo popolo. E Dio vuole che chiediamo, Dio vuole che riconosciamo di aver bisogno di Lui. nel momento in cui pensiamo di essere autosufficienti allora ci mettiamo nei guai. Invece Dio vuole che giorno per giorno diciamo, Signore dammi oggi quello di cui ho bisogno. Poi c'è un altro concetto, Gesù dice, sufficiente ad ogni giorno il suo fanno. Molte volte le preoccupazioni del domani ci impediscono oggi di fare quello che dobbiamo fare. invece no, dobbiamo lasciare le preoccupazioni di domani a domani perché è sufficiente ad ogni giorno il suo fanno. E quindi preghiamo, dacci oggi il nostro pane quotidiano. Poi rimetterci o manda via i nostri debiti o i nostri peccati, le nostre cadute come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. e questa è una preghiera che condanna tante persone che lo dicono perché se loro non perdonano, se loro non mandano via queste offese, questi peccati che hanno fatto gli altri nei loro riguardi, non saranno perdonati, anzi chiedono a Dio di non perdonarli. Questa preghiera dice che perdonaci in quanto che noi abbiamo perdonato. E quindi se noi abbiamo uno spirito di rivalità, di orgoglio, di cattiveria verso le persone, di vendetta, non possiamo fare altro che recare più condanna a noi stessi dicendo questa preghiera. perdonaci in quanto che noi abbiamo perdonato quelli che ci hanno fatto del male. E poi dice non ci esporre alla tentazione. Anche qui è importante capire che Dio non ci tenta col peccato. Dice Giacomo i fratelli di Gesù Dio non tenta nessuno. Noi siamo tentati dai nostri desideri, dal nostro modo di pensare, dalla nostra datura del peccato. Noi siamo tentati per queste cose. Non è che Dio ci tenta. Però la parola qui tentare, esporre alla tentazione, dice non ci esporre alla prova. Alla prova. Certe volte uno dice io non potrei mai affrontare quella cosa. Però invece quando il momento arriva Dio dà coraggio e forza di affrontarlo. Noi non pensiamo di essere capaci di affrontare bene una situazione brutta nella vita, la salute o altri disastri. Però Dio dice in quel momento ti darò la forza. Quella prega di io sono debole, io sono pronto a cadere, io non ho la forza mia, quindi non mi esporre a quelle cose. Però Dio risponde la mia grazia ti basta. C'era quel caso nella vita di Paolo che aveva e non ci identifica se era una persona che gli faceva male o una malattia, una scheggia nella carne diceva Paolo e ha pregato tre volte dice Dio rimuovi da me questa cosa non ce la faccio più e Dio rispondeva la mia grazia ti basta ti basta e quindi Paolo diceva va bene mi accontento così andrò avanti fiducioso che Dio mi darà la forza di affrontare questa cosa e così anche noi nella vita certe volte sì è giusto che chiediamo a Dio di non ci esporre perché pensiamo che siamo deboli non ce la facciamo ma Dio invece per la sua grazia per il suo amore per la sua gloria come abbiamo visto permette delle situazioni nella nostra vita che sono più grandi di noi dove noi non possiamo veramente affrontarli però in quelle difficoltà scopriamo la sua forza in noi come diceva Paolo scrivendo ai filippesi da carcere una lettra sulla gioia dice io posso ogni cosa in colui che mi fortifica se io affronto quella difficoltà con la forza mia vero o meno cadrò però se io affronto quella difficoltà con la forza del Signore riuscirà riuscirò io per la gloria di Dio di andare avanti perché Paolo ci garantisce questa cosa io posso ogni cosa in colui che mi fortifica quindi quando preghiamo di non esporciare la tentazione teniamo presente che se Dio per la sua volontà ci mette in questa condizione di prova Dio darà la forza a noi a proseguire andare avanti per la sua gloria e poi alla fine abbiamo visto l'ultimo pezzo di questa preghiera che forse non c'era non c'è nei documenti più antichi che abbiamo in manoscritti più antichi dove dice perché a te appartengono il regno la potenza e la gloria in eterno quindi una conclusione che forse più tardi hanno messo che dà un senso anche a questa preghiera perché preghiamo a Dio e solo a Dio perché solo Lui è sovrano solo Lui è potente solo Lui ha la gloria e quindi è giusto che preghiamo a Lui e qui vorrei solo dire che quando noi ci rivolgiamo in preghiera ad un'altra entità la mamma di Gesù o i santi stiamo andando contro questo principio perché solo Dio è degno della nostra preghiera solo Lui è sovrano solo Lui ha il regno e noi ogni volta che preghiamo il Padre nostro riconosciamo questo fatto che solo Lui è degno e solo a Lui dobbiamo pregare Gesù ha detto che solo Dio deve essere onorato e tramite Gesù Cristo io prego che questi studi sono stati di un beneficio e sono sicuro che avremo poi altre occasioni di stare insieme per crescere nella nostra conoscenza della Prova di Dio il Signore vi benedica di un'escrizione 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 di un'escrizione